benvenuti in inglese in pillole la puntata di oggi sarà dedicata ad una festa che sta per arrivare la prossima settimana ed è una festa che abbiamo acquisito anche qui in italia negli ultimi anni infatti viene festeggiata da tutti i grandi e piccini e stiamo parlando della festa dei morti in particolare la festa di cui vi parlerò oggi arriva ad oltreoceano da questo punto del mondo gli stati uniti la festa quindi in questione è visto che abbiamo deciso di adottare questa festa quasi come fosse una festa nazionale impariamo anche pronunciare la parola in maniera corretta infatti questa festa non si pronuncia halloween bensì halloween bisognerà mettere un po di enfasi sulla iniziale e sulla finale della parola per cui halloween provate com'è halloween oggi pareremo insieme a pronunciare altre parole che potrebbero esservi utili durante questa festa come ben sapete tutti quanti si travestano quindi di qualcosa di pauroso per cui vediamo insieme come pronunciare il nome degli abiti che potete indossare durante questa festa il primo nome è ghost non è ghost ma è ghost la seconda masca che potrete indossare durante questa festa è monster per cui il mostro monster un'altra maschera molto utilizzata è quella della mummia per cui mami 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 tra i più comuni ovviamente ci sono streghe stregoni vampiri e skeletri per cui vediamo un po come si dicono queste parole in inglese come si pronunciano correttamente allora iniziamo dalle streghe e dagli stregoni quindi streghe witch per le ragazze e stregoni wizard per i ragazzi poi c'è lo scheletro skeleton e il vampiro vampire non dimentichiamoci una delle cose più importante che è ovviamente la zucca che si pronuncia pumpkin se poi decidete di portare i vostri bambini a un parco magari a tema a tema di halloween allora troverete sicuramente la casa infestata piena di creature della notte per cui potrete incontrare la civetta che si pronuncia owl il pipistrello butt e la casa infestata dai fantasmi haunted house quindi per finire la puntata di oggi enjoy your halloween night and trick or treats ciao alla prossima